Vi avevo fatto una promessa e Joseph mantiene sempre le promesse Infatti in un video in compagnia di tuberanza, in un capsule opening doppio Vi avevo fatto una sorta di proposta più che scherzosa Stavo veramente scherzando ragazzi, non ci credevo nemmeno io Ovvero che, superati i 5.000 like, avrei fatto un video con la Nutella E l'avrei spalmata, che ne so, sul pane, pancarre, quello che volete Ragazzi miei, quel video ha superato i 5.000 like e siamo arrivati ad 8.000 like Quindi vi ringrazio tantissimo Non mi aspettavo quindi di dover fare davvero un video di questo tipo Ma a questo punto facciamolo Facciamoli insieme, ovviamente tutti i prodotti, tutto quello che vedrete Pambauletto e soprattutto Nutella non sono sponsorizzazioni Anzi, magari farò vedere con che amore, con che passione si spalma la Nutella Tutte le tecniche che utilizzerò in questo video ovviamente dovete mostrarle ai vostri amici assolutamente Quindi condividete questo video a loro e a tutti i parenti, amici, cugini, quello che volete Inutile dirlo che per un video di questo tipo dovete lasciare un like adesso, in questo preciso istante In modo tale da farlo vedere a più persone possibili e far comprendere come si spalma veramente la Nutella con passione In ogni caso, se vedo tanti like potremo fare altri esperimenti Oggi spalmeremo il tutto sul pambauletto Che a me piace tantissimo con la Nutella Però nei prossimi video potremo, che ne so, spalmarlo nei cornetti Nelle brioscine, in quello che voi desiderate Anzi, scrivete già nei commenti in un prossimo video Dove volete che io vada a spalmare la Nutella Ma se non superiamo pure qua i 5000 like, nulla da fare Quindi sta a voi, condividete il video con i vostri amici Almeno vi fate due risate con un video leggero Visto che siamo nel weekend, almeno spegniamo un attimino il cervello Ma direi, finalmente, di partire Premessa prima di iniziare Tutto quello che vedrete in questo video è fatto solo ed esclusivamente per scherzare Esagero per farci due risate E quindi ragazzi, in un periodo come questo, pesante Alleggeriamoci la vita con qualche cavolata Allora, vi ho preparato ovviamente anche una seconda camera Cos'è che vi servirà Questo sarà una sorta di banalissimo e divertentissimo tutorial Quindi ragazzi, avete bisogno, chiaramente, della Nutella Qui abbiamo il packaging, quello più o meno piccolo Poi avete bisogno, ovviamente, di qualcosa per spalmare La Nutella E, senza ombra di dubbio, avete bisogno di pan bauletto Oppure pan carré, pane Direi di partire subito da un presupposto Ci sono ben due scuole di pensiero Per quanto riguarda, come dire, i toast Come li chiamate? Comunque il pan bauletto in generale Allora, c'è chi praticamente spalma E poi mette sopra In modo tale da avere un appoggio Ma c'è anche chi e c'è chi lo fa Praticamente c'è una singola fettina Ci spalmi la Nutella E poi lo mangi così com'è Con il rischio Rischio di sporcarti Ma Ne guadagni ovviamente di sapore E soprattutto di esperienza Primissima cosa Prendi la Nutella Già quando vai a prendere la Nutella Devi fare un movimento di questo tipo Che va ad accompagnare Come dire, tutto quello che stai per fare Quindi Riavvolgi in questo modo Per andare Come dire A distruggere qualunque tipo di legame Con tutta la Nutella Ancora lì All'interno Prendi la fettina In modo sempre amorevole E soprattutto delicato Inizi a spalmarla In questo modo Rotazione Direttamente Del Del panbauletto In modo tale da spalmarlo In maniera più o meno Omogenea Deve toccare Tutti i lati E soprattutto Tutti gli angoli In maniera più o meno uniforme Altrimenti ci saranno Delle parti In cui poi Non c'è E quando andrete Direttamente ad addentare Non vi ritroverete la Nutella In quel luogo lì Ed è un grandissimo peccato È un'esperienza Che poi viene rovinata Non deve assolutamente accadere Ragazzi Io ci sto mettendo tutto me stesso Per creare una cosa Veramente Senza senso Quindi Sto scherzando Però Però Ritorniamo seri Ragazzi Allora A questo punto Quando avete spalmato la Nutella Potete lasciare uno strato In ogni caso Leggerissimo Ma volendo Potete anche insistere un po' In che senso Prendete un altro po' di Nutella La spalmate sopra E ci fate un attimino Come dire Dei solchi In generale Un movimento Che possa creare Delle striature Che già alla sola vista Creano come dire Una sorta di senso Di Di lavorazione Attorno a quello Che è Il movimento Vero e proprio Quindi Da qui Potete già Iniziare Volendo Come dire A mettere L'altra fetta sopra Non esagerate Non esagerate con la Nutella Perché se è poca Si sente poco il sapore Ma se è troppa Non sentite il sapore In generale del pane O quello che utilizzate Questo non è un bene In maniera assoluta Per cui non esagerate E di conseguenza Potete già iniziare In questo modo Ma un piccolo tocco di classe Da molti sottovalutato È il seguente Ovvero quello di pulire Poi eventualmente Un attimino Quello che state utilizzando Per spalmare Direttamente qua su E questo è già Qualcosa di ottimo Quindi ragazzi Io vado ad addentare Godiamoci questo momento Con una sorta di piccolo ASMR Che vi può accompagnare Magari se lo farete anche voi Vediamo un attimino Ci sta Ci sta la grande Il tocco non è stato perso Veramente non male Ragazzi Vabbè Ma Non c'erano dubbi Al riguardo Quindi Veramente top Ragazzi Una merenda Veramente Incredibile Soprattutto che Ti dà forza Ti dà carica Ultimo morso Dato ragazzi Veramente top Veramente non male Ma A questo punto Per continuare A prenderci in giro No Perché è quello che stiamo facendo Dall'inizio di questo video Direi di prendere Il resto della Nutella Ragazzi Prendiamo un altro po' di Nutella Quindi ho messo un bel po' Quindi facciamo molta attenzione Io poi metto a fare queste cose Proprio in zone dove ci sono computer E tutto il resto Non dovrei farlo Però Mi raccomando Sempre rotazione In questo modo Vedete Sempre una rotazione Omogenea E quindi Continuate a spalmare In maniera Come dire Sempre con amore Mai Frettolosamente Mai Bisogna sempre dare il massimo Da questo punto di vista Quindi Ancora un altro pochettino Ma giusto Un pochettino Giusto per le striature Di cui parlavo Poc'anzi Eccole qua ragazzoni Quindi Andiamo a creare Un attimino Di livello Vedete Non è proprio Livellato Precisissimo Con il tutto Creiamo Un attimino Di solchi In più Rialzati Per dare un po' Di spessore Alla situazione E quindi ragazzi Questa volta Non metterò Assolutamente La fettina sopra Per quale motivo Perché Come vi dicevo In questo modo Voi assaporate Molto di più La nutella C'è proprio C'è meno pane Quindi Si sente meno Sapore del pane E soprattutto Vi sporca anche La parte superiore Delle labbra Quindi Ti senti molto più Impastato Proprio più avvolto In maniera totale Dalla nutella Quindi ragazzi A voi Ti sporchi di più E quindi È un po' più rischioso Se ti cade Ovviamente Cadrà dalla parte Sbagliata Quindi Si rovina tutto Fate attenzione A dove lo fate Però Il gioco Valle la candela La risposta E sì Mamma mia ragazzi Ci stava Avevo fame Molta molta fame Per cui Era veramente il caso Devo essere sincero Vedete Faccio difficoltà A mantenere il tutto Però A scopi superiori È necessario Poi non si parla Con la bocca piena Scusate L'ultimo tocco di classe E via Ragazzi È andata Veramente Veramente Colazione Merenda Quello che volete Top Inutile dire poi Che quello che avete utilizzato Per spalmare la nutella Non va subito messo lì a lavare No C'è ancora residuo di nutella Va assaporato anche quello Però in quel caso fate attenzione Utilizzate cosa dalla punta Rotondata Mi sembra molto a tartac Perché poi si fanno Si fanno degli errori Mi raccomando Fate molta molta Attenzione A parte gli scherzi ragazzi Ho finito di dire cavolate Ci siamo divertiti Veramente tantissimo Io a fare sto video Mi sono divertito un botto Perché è un video molto leggero Dove ho esagerato In maniera assurda Però Era molto divertente Era una cosa che volevo fare da tempo Poi ve l'ho proposta Voi Siete stati Calorosissimi A una proposta di questo tipo Non ho capito il motivo Però se volete altri video di questo tipo Ragazzi Io sono qua Se vi piace l'idea Ovviamente la priorità Sono i videogiochi sul mio canale Però un video ogni tanto Così leggero Ci sta pure per Come dire Per semplificarci la vita Farci due risate In un periodo come questo Dove ci sono tantissimi altri problemi Per cui Mi raccomando Iscrivetevi ora Al mio canale youtube Cliccando qua al centro Guardate altri video Cliccando qui A destra e sinistra Quindi alla prossima Ciao Ciao